E poi mi ha perseguitato per un bel po' di tempo Poi ho smesso, se ne sono andati Non so se ci sono ancora, magari un giorno torneranno Chissà ne frega Però per un bel po' di tempo mi hanno perseguitato Hanno anche creato account a mio nome per far finta di essere me Cittare col mio nome e poi Andarmi alla gente in stream a flammare in pratica Tipo di persone Non so la motivazione in sé del perché Chi è questo killer? Questa è la mercante Mercante di teschi Spare in basso sicuro Cerchiamo di prenderci più hit possibili Questo drone qua non mi piace Andiamo qua bello al centro Vediamo l'elite Tanto comunque va bene Eh quel drone non mi piace Voglio cambiarlo, cambiate idea Dovrei controllare questi jam qua adesso Il problema Di come è sponato Perché non mi piace come è sponato in generale Quasi la grabbo, peccato si è resa conto Rebecca si è ferita Ciao Rebecca In questa mappa è forte la mercante Questa mappa la mercante è forte C'è da dire Però Solo in questa mappa è forte Capito? Il problema principale è questo Di sto killer Perché in questa mappa puoi dare tanta pressione Ma è letteralmente l'unica forse mappa In cui puoi dare tutta questa pressione Perché comunque è mezzo stealth alla fine Che prende value nel piazzare droni In zone strette Quindi proprio Au Allora Come ti sei permesso? Mamma di questa Anche the game Può essere anche the game Ma il drone è commesso lì Dove cazzo è finito Ma perché sparisce sto drone? Scusate Ok Ecco un trade Questo va bene Comunque Sono tutti feriti Stiamo prendendo tempo Stiamo prendendo vantaggio Ci prendiamo un altro bello Un altro bello Bello scorgio Così che facciamo urlare Prendiamo regressione I dolenti non possono stare Tanto Sì ma L'avevo appena piazzato quello Ciro È sparito nel nulla Capito? Proprio per questo Perfetto Io ando a quella di caffeina nel corpo Al momento Ha quittato uno Rebecca ha quittato LOL Si è arresa Non vuole più giocare a sto game Adesso mi devo beccare il bot Però che palle Dai bot De merda Ma dove è finita? È scomparso il bot Raga What the fuck Verticale sul balcone Un modo per bloccarsi la schiena Tanto ormai Stai dicendo che sei vecchio Gota? Stai affermando Con fermezza Che sei vecchio? Ti stai schiacciando due vertebre Come cazzo hai fatto? Ciao purretto Buonasera caro Ah ma è un bot Non me ne ho reso conto Tre messe uno spirale più alti tre Sono caduto da due metri Sui talloni Oh Fazzo che male Potresti però definirti Tallone Achille Capita gota? L'hai capita gota? Sneak Siete voi eh? Mi basta Essete voi a coppa vostra Belli twin vero? Do bianco spada Forced penance Intervento Corrotto Pain arrest Perché forced penance? Come cazzo è scritto Vig? Ah è Mi ha sbagliato proprio A mettere la mano Sulla tastiera? Ma sapete che mi sa Che allen Non la posso portare In nessun hook Perché sono tutti rotti Questi qua Forse riesco a portarla su Ma se riesco a portarla No forse giù è meglio No su è meglio Su è meglio Perché qua In questo angolo qui Twin stai sapendo Non le hit Non si curano Oh sì Ho sbettato A mettere la mano Sulla tastiera Con quella battuta Dovevo metterla in faccia Ti ho sentito ridere È inutile che dici cagate Ti ho sentito ridere amore T'ho proprio sentito ridere Quindi è inutile che dici cagate Pagliaccia Non puoi mentirmi Io ti sento Ciao